Marco Toni oggi ha i distributori automatici più economici di tutto il Giappone Una bottiglia 10 yen Cioè 8 centesimi di euro per una bottiglia Solo 8 centesimi Questo distributore ha tutto a 10 yen Cioè 8 centesimi e anche questo Tutto vedete solamente a 10 yen Quale premo? Premo questo No vabbè Il Calpis Perché costano così poco? Perché in realtà quella che vedete qui dietro è una società di distributori automatici E un po' per farsi pubblicità e un po' per svuotare i fondi di magazzino Piuttosto di buttarle lì via le vendono a pochissimo qua Che buono E' anche carino il fatto che escano proprio a sorpresa Quindi tu finché esce la bibita non sai effettivamente che cosa stai andando a comprare E' anche per la parte che c'è è laеждina